Triestina e Pergolettese cercano continuità, cammino un po' altalenante, non conoscono mezze misure queste due squadre poco propense al pareggio. Nella Triestina parte l'Escano in attacco insieme a Fertainen, un po' di assenza in casa, Pergolettese gioca la prima da titolare dall'inizio di Luca, arbitra Francesco Zago di Coneglia, una gara che all'andata vinse la Pergolettese per 2 a 1, minuto di silenzio per ricordare il grande Gigi Riva anche allo stadio di Fontana Fredda, allo stadio Tognone dove continua a giocare le partite interne la Triestina. All'andata la Triestina soffrì i numerosi cambi campo della Pergolettese, calcio di punizione d'avvio, l'Escano la palla sull'esterno della rete, solo illusione del gol dopo tre minuti l'occasione, poi insiste ancora la formazione di Tesser, prova l'Escano deviazione, la palla diventa buona per Celegin, tiro cross che finisce lontanissimo però sia dalla porta che dall'area di rigore, ancora Celegin con una fasciatura dopo uno scontro di gioco, Fertainen, poi Fertainen ancora calcia, non c'è la precisione al trentunesimo minuto ancora protagonista il giocatore finlandese, poi Pergolettese in approfondità, Mazzarani, Serpentina si accentra, Mazzarani finta, Feliccioli calcia, Agostino ancora in porta per l'assenza di Mattosevic, secondo tempo Correia, entrato Redan, controllo Redan Soncin si salva, Redan che rientra dopo la lunga squalifica dopo l'espulsione contro il Padova. Calcio di punizione ancora per la Triestina, va all'occhio profondo, arriva l'Escano sul secondo palo, non segnava dal 2 dicembre, dodicesimo gol in campionato per Facundo l'Escano, torna il gol argentino dal calcio di punizione, Struna non ci arriva, l'Escano si, niente da fare per Tonali e per il portiere Soncin e Triestina che sblocca la gara, Artioli calcio d'angolo, Bariti, Lex destro e c'è Agostino con la palla che si abbassa improvvisamente che riesce a salvarsi ancora Bariti, rampalla di Artioli, Bariti in mezzo, Giawari, trattora la panchina e trova il gol dell'1-1, primo gol in Serie Cinao per Giawari, è entrato da poco e trova il gol, splendido campio campo di Artioli per Bariti traversone, deviazione vincente di Giawari e per Golettese che trova il pari e insiste però la squadra di Matteo Bata ancora Bariti, fa fuori Anzolini, è entrato anche lui dalla panchina, Bariti dietro conclusione di Mazzarani, Agostino ancora si salva per Golettese che va vicino alla 2-1, insiste di Tacco Caia, anche lui entrato a gara in corso la palla che si defila però, insiste sempre la per Golettese, attenzione a Ghio, Villanova, destro dopo essere rientrato, altro intervento di Agostino sono tante le parate nel portiere della Triestina che si fa rivedere però Redan parte parla al piede, c'è Minesso serve Lescano davanti a Soncina, non riesce a mettere il pallone in rete, si è rivisto anche Minesso che era stato un po' fuori dal progetto, ritrova la presenza, gara in corso, finisce 1-1 proprio con il risultato che è caduto di meno per queste due formazioni, un punto a testa con la Triestina che vede allontanare il Padova